FGARForce Allora, questa è un'altra che non è che vuole, ma non è che vuole, non è che vuole, non è che vuole. Ritiriamo, Massimo, oramai non ci possiamo spostare! 1, 2, 3! Molto! Vai, vai, vai! Buonanotte! Si riaprono i microfoni di Radio Delta, a condurre c'è Giacomo e la nave, la nave, questa nave fatiscente che ormai ci portiamo dietro da tantissimo tempo, è andata a Rogo. Questo è quello che succede a Lampedusa, capisci? Sempre, tutto l'inverno. Loro vogliono che veniamo a Lampedusa e ci lasciamo per i clandestini, capisci? Loro vogliono questo. Io tutti devo difendere, devo salvaguardare tutti. Io non so se potrei fare qualcosa per te, ma non mi ricordo di te. Io non so se potrei fare. Io non so se potrei andare. Io non so, mi ricordo di te. Io non so se potrei fare che la ciotola a Cori per i clandestini d'arrabbi,